Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2023. Abbiamo la carta della torre, amici dei gemelli, periodo di cambiamenti, periodo di destrutturazione. Quando c'è la carta della torre arrivano sempre dei cambiamenti o comunque delle rotture che in qualche modo destabilizzano. Tenete presente che la torre fa riferimento ad un evento esterno che in qualche modo destruttura, rompe, fa cadere quello che è l'ego. Quello che sono determinati tipi di sicurezza o di idee che magari avete avuto fino ad adesso, sono state valide fino ad adesso, ma è ora di ricalibrare le cose, insomma. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Ok. Abbiamo U, Orfani, carta numero 5. Qui ragazzi si potrebbe trattare di un abbandono, perché questa carta vibra, diciamo così, con la ferita di abbandono e la ferita di rifiuto. E avendo anche la torre, appunto dove c'è una rottura, dove dice che c'è un crollo dell'ego, sicuramente può far riferimento a qualche tipo di crollo emotivo, visto che abbiamo anche questa carta qui. Andiamo a vedere con i tarocchi, perché poi magari andando a vedere un po' più nel dettaglio non è poi così male, insomma. Ok, io vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non doveste risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo e mail sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo. Ah, un'altra cosa. Ho ampliato la lettura. Quindi, visto che è una lettura generale, andremo a fare una carrellata generale un po' di tutto. Vediamo qui come apriamo il periodo, poi andremo a vedere l'amore, il lavoro e qualche messaggio in chiusura. Andiamo a vedere se... qualche consiglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, no? Così, ok. Allora... Due di coppe, carta degli amanti, sete di pentacoli, sete di bastoni e dieci di coppe al contrario. E dunque, avendo la torre, la carta degli amanti, ragazzi, qui si tratta per molte persone di una relazione non necessariamente amorosa, ma per molti potrebbe essere, che in qualche modo è arrivata nella vostra vita, perché vi deve insegnare l'amor proprio, ok? Con questa persona è molto facile che abbiate stipulato un contratto di anime, o che comunque, se non è qualche cosa, diciamo così, a livello carmico, sento che è una relazione, insomma, che va avanti da diverso tempo. E per certi versi c'è questa sorta di... come vi posso dire... di lavoro sull'amor proprio. E qui sento che qualsiasi sia la situazione della torre, per voi, vi darà la possibilità appunto di lavorare sull'amor proprio con la carta degli amanti. Per qualcuno la carta degli amanti parla di scelta. È una scelta tra il vecchio e il nuovo, fondamentalmente. E visto che comunque abbiamo una torre che destruttura tutto quello che è un sistema di pensieri, potrebbe definire il passaggio tra un vecchio gemelli e il nuovo gemelli, ok? Tra l'altro gli amanti hanno anche la vostra carta. Qui si tratta di... di non farsi... come vi posso dire? Di non farsi condizionare con questo sette di bastoni. Sette di bastoni è una carta di una persona che comunque si trova da sola contro tutti. E... sento che potrete farcela. Un po' la vedo collegata a questa carta, no? Mi sento un po' solitari. Si tratta di prendere una decisione per voi stessi nel prossimo semestre 2023. Nel primo semestre del 2023, ok? Abbiamo anche un 10 di coppe al contrario. Quindi ragazzi sento che ma probabilmente dovuta a questa torre, a questo restyling mentale, non ci sarà una piena collaborazione, visto che comunque c'è la carta del 10 di coppe al contrario, è come se non ci fosse una piena collaborazione, una sorta di reale unione col mondo che vi circonda, io vi direi. In realtà, essendo un 10 parla di un ciclo che si avvia alla chiusura, ma che poi in realtà non si chiude, ok? Perché comunque è al contrario. Quindi è come un non riuscire, non un non voler chiudere, è come un non riuscire a chiudere un determinato tipo di ciclo. C'è una carta, il 7 di pentacoli, che comunque esprime un'energia molto lenta, ok? Quindi abbiamo una sorta di lentezza in questa trasformazione di cui ci parla la torre. Ok, andiamo a vedere da un punto di vista degli affetti. E per affetti intendo tutto, quindi relazioni familiari, di amicizia, di coppia, di amici, non l'ho già detto, parenti, tutto. Allora abbiamo la luna, il 6 di spade al contrario, la regina di pentacoli, la carta della stella. Questa è, visto che sono uscite insieme, le metto insieme. 8 di pentacoli, 3 di pentacoli, 2 di pentacoli. Questa zona è solo di pentacoli. Ok, allora. Qui Ragazzi, per qualcuno si tratta di una rottura degli schemi proprio a livello di coppia. Può essere la famiglia che avete creato, può essere, potrebbe anche essere la famiglia di origine che magari non vi supporta troppo con questa torre. Guardate, il 6 di spade al contrario lo sento un po' collegato a questo 10 di coppa al contrario, è un po' come se ci fosse qualche tipo di ciclo da chiudere o qualche distanza che normalmente con il 6 di spade è una distanza di tipo mentale. Il 6 di spade fa riferimento ai problemi, alle credenze limitanti che si sono assorbite in famiglia. Qui c'è qualche tipo di timore a staccarsi da determinate dinamiche, da determinate abitudini di pensiero. Quando c'è la torre c'è un ego molto forte. Allora, quello che vi posso dire è che, allora, per qualcuno ci sarà una ristrutturazione della casa, o si inizierà comunque l'idea di ristrutturare piuttosto che progettare qualche cosa di nuovo, perché qui abbiamo veramente un sacco di carte di pentacoli e parlano comunque di lavoro, di progetti, di gestire più cose al tempo stesso. Quindi vi dico, sarà un qualche cosa che non vi aspettate, io credo. Potrebbe essere proprio una collaborazione con qualcuno che entri. O può semplicemente essere che, per esempio, ci siano degli amici con i quali iniziate un qualche tipo di progetto che è molto tempo, al quale è molto tempo che state lavorando. Non so se l'ho detto in italiano corretto, incarto ogni tanto con le parole. Andiamo avanti, così poi vi faccio un riassunto un po' più globale, un po' più generico. Andiamo a vedere il lavoro. Allora, abbiamo un 6 di pentacoli, la carta dell'eremita, un 3 di bastoni al contrario, un 8 di bastoni al contrario, e la carta del sole al contrario. Allora, diciamo che a livello lavoro ed economia, in realtà non vi sento male, nel senso che comunque si parte con un 6 di pentacoli, quindi si parte da una situazione di equilibrio. È vero che poi abbiamo l'eremita e il 3 di bastoni al contrario, e qui sento che potrebbe esserci una sorta anche lì di solitudine, no? Qui abbiamo la carta di orfani, quindi può essere che ci sia qualcuno che o deciderà di mettersi in proprio e quindi di lavorare da solo con questa carta dell'eremita, oppure più semplicemente l'eremita vi farà un attimino riflettere su quello che è il tipo di lavoro che volete fare e quanto siete soddisfatti di quello che state facendo. Per molte persone, vi dico, si tratta di iniziare qualche cosa di nuovo. Vi ricordo che comunque c'è la torre, si interrompono gli equilibri precedenti, per qualcuno si interrompono gli accordi precedenti, ok? Perché qui all'inizio della lettura abbiamo comunque un 2 di coppe. Il fatto che il 3 di bastoni sia al contrario, diciamo che... Normalmente parla di viaggi, parla di spossamenti, no? Qui, e lo sento molto legato a questo 6 di pentacoli, perché è un po' come se vi dicessero di fare attenzione, di fare le cose con equilibrio, di fare investimenti in modo calibrato, in modo ragionato, insomma, di non essere avventati, ok? Perché comunque, ragazzi, sì, è vero, c'è questa sorta di cambio e di trasformazione, ma in questo momento dovete, con la carta dell'eremita, è un po' come se doveste ancora capire da che parte andare, ok? C'è questo progetto in ballo, vi ripeto, per chi ovviamente stesse tentando qualche cosa di nuovo, però ecco, diciamo che... avete anche un otto di bastoni al contrario, sento che manca la comunicazione, manca qualche tipo di notizia, manca qualche tipo di divertimento, magari ce l'avete in testa, perché comunque qui c'è una stella, però poi a livello di verbalizzare quello che volete fare, ecco, non lo sento tanto, perché comunque avete queste due carte al contrario, quindi comunque si tratta di non osare, ma perché in questo momento, cioè nei primi sei mesi del... del 2023 secondo me, ristabilirete un pochettino quali potrebbero essere le dinamiche, ok? Andiamo a vedere che altro. Allora, wow, abbiamo il mondo, abbiamo il mago, abbiamo il matto, oh che belle, carta di compimento, chiusura cicli, inizio cicli, carta di inizio cicli, carta di chiusura, inizio cicli, bellissimo. Andiamo a vedere, ancora due, ne sono uscite tre, ma le prendiamo tutte e tre. Guardate ragazzi, avete un sacco di arcani maggiori innanzitutto. Diciamo che l'ultima linea della stesa promette davvero bene, vi dirò. Allora, partiamo con la carta del mondo. La carta del mondo è una carta di compimento, è una carta di globalità, di totalità. È anche una carta che, in questo senso, in quanto mondo, rispetto agli altri, il mondo, cioè io più gli altri, no? E in questo caso, sento che per certi versi, avete bisogno di fare il lavoro di cui parla l'eremita, proprio perché gli altri, in questo caso, hanno un peso, in quello che voi volete fare, magari in questo tipo di progetto, oppure magari proprio con questo tipo di lavoro che impone la torre, c'è bisogno un attimino di confrontarsi con lo spazio esterno, con il mondo esteriore. C'è anche da dire che quando c'è il mondo, molte volte si parla di uno spazio fisico tra uno stato e l'altro, quindi una grande distanza. Quindi per qualcuno potrebbe esserci qui una situazione che in qualche modo vi vincola a causa della distanza. potrebbe essere con la famiglia o nel caso di qualcun altro potrebbe essere con la persona di interesse. Allora, qui poi avete due carte bellissime, il mago e il matto, sono due carte di inizi cicli. Diciamo che vi sento bene da un punto di vista della vita sociale, avete comunque anche la temperanza, quindi voglio dire siete in equilibrio. Gli amici, le persone intorno a voi non mancano. Nel caso abbiate figli direi che comunque cioè è un rapporto in questi sei mesi che va bene. Vedo per molte persone che c'è un buon rapporto in effetti con i figli. Ecco, forse qualcuno dà un po' troppo o comunque provvede diciamo da un punto di vista pratico concreto alle esigenze dei figli ma si potrebbe essere un pochino più attenti per quello che riguarda il lato emotivo. Però io mi rendo conto che ci sono diverse persone qui che hanno perché qui avete la carta della luna quindi ci sono delle zone d'ombra che bisogna ancora elaborare e mi rendo conto che per chi non le ha elaborate diventa difficile cambiare il modo di comportarsi anche con gli altri o comunque i discendenti diciamo così perché ancora non si è trasformata questa cosa dentro quindi si tende a riperpetuare la dinamica. Allora nel caso stiate cercando un lavoro non sento che sia proprio un lavoro nel senso stipendiato con contratto però sì c'è davvero l'idea o la possibilità di creare qualche cosa di nuovo di realizzare un sogno scusate c'è l'idea c'è la possibilità di realizzare un sogno con questa con questa carta della stella la carta della stella è anche qualcuno che riceve informazioni perché è una carta di divinazione comunque collegata con le stelle e il destino è scritto nelle stelle quindi anche lì potreste fare attenzione un attimino magari ai sogni in questa prima metà del 2023 perché potrebbe arrivare qualche idea geniale che potremmo rivedere in questo progetto del tre di pentacoli le ultime due carte sono un un fante di spade e un re di spade ecco qui sento che richiamano un po' l'energia di questo eremito avete bisogno di fare un piano a b c piano diciamo principale piano di riserva qualsiasi sia la situazione torre che riguardi il cambio di un lavoro che riguardi il cambio di un'abitazione piuttosto che di una relazione insomma c'è bisogno di dare ordine e struttura a questo tipo di cambio anche se è un progetto nuovo che soppianta diciamo così quello prima che vi ha dato più o meno soddisfazioni ecco c'è da fare perché comunque quando c'è il fante di spade è una carta che invita a controllare a studiare a stare attenti ai dettagli perché comunque è un'energia molto idealista e poco concreta quindi qui ecco c'è bisogno di mantenere diciamo così l'attitudine del radi spade e quindi appunto ragionare fare i conti in modo molto logico allora riassumendo perché sono tante carte veramente le informazioni sono tante allora da un punto di vista della crescita personale sento che il momento torre che andrete a vivere potrà farvi crescere da un punto di vista dell'amor proprio qui sento che a livello familiare c'è una sorta di ferita d'abbandono perché abbiamo comunque anche la carta di orfani e questo sta influendo comunque influirà in qualche modo nel vostro rapporto di coppia prima di tutto quindi se diciamo siete consapevoli che ci sono certe dinamiche nel vostro rapporto di coppia che già sono un po' incrinate fate un lavoro come dice la luna sulle zone d'ombra per riuscire a portarle a galla a comprenderle integrarle accettarle e da lì puoi cambiare tipo di reazione in modo da non contaminare anche quella che potrebbe essere la relazione di coppia se non avete nessuno guardate farò poi nel dettaglio le stese dell'amore andremo a vedere per single e per chi è in una relazione però a vederla così potrebbe esserci qualche tipo di conoscenza ed è lì che arriva la conoscenza che mi insegna l'amor proprio però se ve la devo dire tutta non so se sia una relazione di quelle come vi posso dire perché potrebbe anche essere una relazione di amicizia molto forte anche se comunque lo sento per pochi però breve ma intensa io direi io nel caso abbiate una famiglia una una coppia stabile c'è un attimino di non mi piace usare la parola crisi però c'è un attimino di così diciamo dubbio potrebbero esserci delle discussioni magari per qualcuno proprio inerente a una casa una ristrutturazione della casa magari proprio un cambio di casa perché ricordiamoci che qui c'era il mondo il mondo parla di distanze di traslochi di movimenti importanti quindi con tanti chilometri in mezzo ok con i figli ve l'ho detto abbiamo detto che siete tanto disposti o pronte comunque a a far fronte a quello che sono i bisogni e le necessità da un punto di vista concreto però da un punto di vista emotivo sento che appunto prima avete bisogno di elaborare questa vostra ferita la ferita d'abbandono piuttosto che la ferita del rifiuto e il 5 di coppe è questa la carta degli orfani è come se fosse un 5 di coppe o un 4 di coppe dipende come sono messi comunque per quello che riguarda il lavoro se avete un'attività improprio sento che non va male non ci sarà forza quella forte espansione che voi vorrete ma perché manca una comunicazione manca probabilmente la pubblicità manca il marketing il fatto di esporsi il fatto di anche un po perderci di tempo del tempo il fatto che probabilmente non state investendo molti soldi nello spostarvi o nel dinamicizzare quello che è il vostro lavoro se per caso avete un lavoro diciamo stabile vi dirò anche lì tutto in cefalogramma piatto nessuna buona nuova ma neanche nessuna cosa negativa in vista ecco diciamo che rimarrete così come siete non vedo grosse espansioni fondamentalmente nel caso abbiate nuovi progetti avanti tutta perché vi dico avete qui un sacco di carte di denari e poi qui c'è questa fase che è vero sono ancora il contrario queste carte ma ci sono e c'è anche il sole quindi si prospetta è in previsione è in arrivo probabilmente verso la fine del semestre quello che è una probabile espansione del vostro lavoro di quello che è la comunicazione magari visto che abbiamo visto che con questo 8 di bastone al contrario mancava un po' quindi potrebbe essere qui sento che c'è qualche cosa che ha a che fare con i viaggi gli spostamenti c'è qualcuno che fa difficoltà a muoversi o a difficoltà a muoversi o a trasferirsi c'è qualcosa che riguarda gli spostamenti che un po' vincola condiziona e poi in ultima analisi guardate io in realtà vi sento bene anche a livello di salute fisica vi dirò vi sento bene vi sento gioiosi vi sento pimpanti vi sento forti quindi salute psico fisica o psico emotiva diciamo così a parte quella piccola nota dolente diciamo così per quello che riguarda le ferite da ancora risolvere non vi sento male ok non vi sento male va bene andiamo a vedere qualche carta di oscio vediamo che cos'altro vi dicono come sono saltate la fonte e schizofrenia allora la fonte è un asso di bastoni è l'azione è l'inizio è un qualche tipo di movimento di tipo concreto che si fa per un progetto per un movimento ripeto per magari un trasloco un'idea quello che è mentre la schizofrenia è questa qui è la fonte interiore l'energia interiore la fiamma che si accende magari anche qualche nuovo hobby o qualche nuova passione per esempio ok abbiamo la schizofrenia e la schizofrenia vi dico che è un 2 di spade parla di una forte indecisione se vogliamo ma qui ce l'abbiamo abbiamo il 2 scusate abbiamo gli amanti e il 2 di coppe e gli amanti parla sempre di fare una scelta tra il vecchio e il nuovo il mondo è una carta di compimento di chiusura cicli il mago un 1 inizio il matto è uno 0 quindi di nuovo fine e inizio abbiamo la fonte che è un asso abbiamo la carta della torre qualche dinamica qui ragazzi cambierà io dico che che cambierà e sì c'è qualche cosa vediamo se riesco a dirvi di più su quello che cambierà perché secondo me è un cambio interno quello di cui parla la torre non è tanto un cambio di tipo fisico perché sinceramente cambi fisici non è che ne vedo però sì con questa luna sento che c'è qualcuno che avrà farà un lavoro comunque c'è la necessità di di risolvere delle questioni a livello di infanzia ok andiamo a vedere con i co anche altro messaggio vi posso dare per meditare su questi primi sei mesi vediamo un po' i semi del passato sono i frutti del futuro e qui di nuovo rivedo la luna c'è qualche cosa del passato che comunque vi sta ancora controllando mi viene da dire perché quando c'è la torre allora considerato che la torre fa riferimento all'ego la torre in quanto carta fa riferimento alla torre di babele dove ci sono questi umani questi due umani che hanno voluto costruire una torre talmente alta da riuscire ad arrivare fino al cielo hanno avuto questo attacco d'orgoglio diciamo così e poi alla fine sono stati puniti e se ci fate caso è rappresentato con un fulmine che arriva e rompe la torre e quindi sono stati puniti da dio per la loro superbia qui si tratta di voler troppo per egoismo anche c'è una determinata stabilite voi qual è c'è una determinata situazione dove sta giocando un ruolo fondamentale il vostro ego sento che qualcuno qui sta cercando di dimostrare qualche cosa al proprio ambiente familiare piuttosto che a se stessi piuttosto che in un ambiente lavorativo può far riferimento all'orgoglio è la torre perché se poi vedo questa carta mi viene e vedo questa carta ritorno al lavoratevi quelle che sono le vostre zone d'ombra perché secondo me ha certe reazioni dettate magari anche dal lego ricordatevi che l'ego è anche collegato con la paura appunto sono dettate certe reazioni da una non metabolizzazione di queste ferite nel momento in cui voi riuscite a lavorare queste ferite del passato che possono essere diverse per ognuno di voi è come avere uno scatto in più una maggior comprensione di conseguenza certe dinamiche si riescono a lasciare andare bene ancora una carta da parte delle fatine vediamo che cosa vi dicono esteriorizzazione ve la metto qui difatti avete lotto di bastoni al contrario se ne ero girato un'altra e autenticità si dicevo si era girato lotto di bastoni nel contrario e parla proprio di una carenza di comunicazione in questo caso in realtà la sento un po' più sì la sento un po' più collegata per quello che riguarda la vostra voglia di muovervi voglia di fare voglia di progettare ma è anche proprio la voglia di comunicare in molti casi cari amici dei gemelli questo è quello che avevo per voi spero che la lettura così estesa insomma abbia potuto darvi una carrellata un po' generale di come sarà il primo semestre 2023 andremo poi a vedere nel dettaglio l'amore e il lavoro fatemi sapere nei commenti cosa ve ne sembra di questa stesa che è diversa da quella precedente se vi è piaciuta potete comunque mettere un like potete iscrivervi condividere commentare fare una donazione ogni tipo di supporto è sempre ben apprezzato io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao